Pesca Langolino e patte Buffon dopo 5 minuti Il tiro avanti con Paparino Acromai Adesso è Rades, la scelta di nuovo da una caldina da lì Ci va Rades Confusione pazzesca in area Erza volta di Camuotra Asicci la colina Capuca Di Posanova Comandai Un giro vincino verso pisa Guarda il giro vincino Guarda il pivolo C'è sempre la storia un po' contro il gozana Sua seconda望ra Il gioco è un po' ucciso, ma non ne ma non è niente, ma non è niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.